Ben trovati in un appuntamento con l'ospite, il protagonista di questa puntata è Padre Marciante, da pochi mesi arciprete della città di Sciacca, grazie intanto per aver accettato l'invito. Padre Marciante, dicevo da pochi mesi, come sono stati questi mesi, come è stato questo ritorno però a Sciacca, questo è stato un ritorno? Certamente è stato un ritorno perché la mia vita di sacerdote è iniziata a Sciacca nel mesi d'ottobre 1974, poi ho fatto il docente di religione alla scuola media in Veggie, quindi anche se sono stato trasferito nel 1976 nella chiesa madre di Burcio, il legame con la scuola in Veggie si mi ha mantenuto sempre a Sciacca e quindi questo ritorno è stato intensamente forte, anche perché sono stati due mesi di grandi ritorni, di grandi ricordi, di grandi sentimenti, che ringrazia il Signore perché veramente non mi sono sentito un pesce fuor d'acqua, ma ho cercato di riprendere il filo, il filo della comunicazione, il filo dell'amore a questa città, ma principalmente alla chiesa madre. Lei ha iniziato proprio dalla chiesa madre, no? Come aiuto di padre Falanga. Di padre Falanga, sì, proprio nel 1974 come vice padre ho iniziato il mio servizio di sacerdote in questa basilica con lo sguardo della Madonna. Che cosa ricorda di quell'evento? Ma di quell'evento ricordo tante cose, tante cose, innanzitutto la figura della cipreda Falanga, che per me è stato un grande maestro, mi ha accompagnato nei miei passi, nel mio sacerdotio, ricordo il suo affetto, mi valeva veramente bene, mi valeva veramente bene, tanto è vero che ricordo quando due anni dopo ho avuto la chiamata del vescovo per essere trasferito al cipredo a Burgio, lui mi ha detto stai attento, qui te la passi bene, quindi prima di decidere fai il tuo discernimento e quindi era legato veramente affettosamente a me e anche alla mia famiglia. Ma ricordo altre realtà molto belle della chiesa madre, innanzitutto i giovani, i giovani dell'azione cattolica con i quali abbiamo lavorato intensamente nei vari percorsi dell'anno liturgico, mi ricordo in maniera particolare il tempo della novena di Natale, le varie attività estive che facevamo, una volta siamo andati anche a fare due giorni di conveggio alla città di Caltabellotta dove i ragazzi si sono veramente divertiti, è una fatta esperienza di comunità, esperienza di vita associativa perché è la nostra associazione. Lei diceva padre Falanga mi ha detto stai attento perché il ruolo di arciprete che cosa si richiede, una pensa un prete come tanti, invece non è così. E allora non era veramente così, allora anche passare da viceparraco al cipredo a Burgio dove c'è un'altra realtà sociologica e quindi era un impegno, una responsabilità certamente che comportava un certo sacrificio, una certa responsabilità, tra l'altro io ero molto giovane quindi quando sono andato a Burgio ho trovato altri 5 sacerdoti più grandi di me quindi io piccolo sacerdote, giovane sacerdote ho dovuto affrontare questa chiamata però grazie a Dio ho superato le prime difficoltà iniziali perché la gente di Burgio mi ha accolto anche i miei confratelli di Burgio più grandi di me hanno accolto anche la mia giovinezza di sacerdote e insieme abbiamo lavorato per 27 anni a Burgio dove ho tanti ricordi. E' tornato nella città di Sciacca per diversi anni alla guida della parrocchia di San Pietro anche quella è una realtà che le è rimasta nel cuore, che le cita spesso l'ambiente della marineria? Senza dubbio l'esperienza di parroco a San Pietro è stato un ritorno anche quello dopo aver lasciato Sciacca, un ritorno in una zona dove c'era un legame perché la matrizia di Sciacca ha anche i marinai per la festa della Madonna del Soccorso, quindi già alcuni marinai li conoscevo prima ritornando a Sciacca nella parrocchia di San Pietro abbiamo ripreso questa vita di fede questa vita di amicizia, questa vita di pastorale ecclesiale ma lì ho trovato anche un cuore grande presso i pescatori, me lo aveva detto bene il padre Sciaccaitano quando mi ha presentato lui era allora vicario Faranio, mi ha presentato alla comunità e mi ha detto vede che il cuore dei marinai è un cuore grande, è veramente nove anni passate alla parrocchia di San Pietro ho dei grandi ricordi principalmente per la festa di San Pietro che abbiamo ripreso grazie all'impegno delle due cooperative perché c'erano state delle difficoltà ma con la mia venuta le difficoltà sono superate e insieme nella comunione dimenticando anche certe attrici del passato abbiamo veramente fatto delle belle feste per il nostro patrono della parrocchia che era San Pietro Apostolo ma è stato anche interessante l'inizio del servizio pastorale a San Pietro perché abbiamo dovuto aprire e questo ne sono veramente contento, i nostri locali per dare spazio all'associazione degli scout ricordo la presenza allora di Nino Perrello, Paola Bono e altri che sono venuti a bossare non alla mia porta della chiesa ma alla porta del mio cuore e io ho aperto non solo il mio cuore ma anche tutto la chiesa. Ma questo è il ruolo della chiesa, quello di essere aperti innanzitutto alla realtà sociale, le citava la marineria ma anche al mondo dei giovani e favorire queste occasioni di crescita all'interno della chiesa. Soprattutto in un momento così difficile, si parla anche di disagio giovanile di giovani in crisi di valori. La chiesa che ruolo deve esercitare? La chiesa deve esercitare il ruolo di accoglienza innanzitutto perché noi non possiamo pensare a una comunità a una chiesa che costruisca muri ma dobbiamo pensare, come dice D'Antonio Nobello, a una chiesa che costruisce ponti, ponti dove ognuno può passare per entrare e per uscire. Quindi una chiesa con le porte aperte, una chiesa che accoglie e con l'esperienza degli scouti alla porccia di San Pietro anche il territorio è stato valorizzato perché l'apostolato con i giovani, con i ragazzi che sono cresciuti in questi anni, ormai sono passati più di 15 anni di servizio e di crescita nei locali della porccia di San Pietro e la chiesa ha aprendo le porte ai giovani che vivono un grande disagio perché guardate io sono convinto che oggi la chiesa deve essere capace di uscire dalla sua storia di sacristia. Abbiamo aperto, il vescovo ci ha contegnato sabato scorso il piano pastorale e questo piano pastorale proprio è segno di un impegno nuovo della chiesa, la chiesa non può vivere di rendita o di una pastorale tradizionale. in questi ultimi anni dal piano pastorale del 2016-2017 sino a oggi le varie tappe del cammino della chiesa cligentina hanno proprio segnato questo sviluppo di una chiesa nuova, di una nuova evangelizzazione ma direi anche di una nuova presenta nel mondo di oggi e quindi conoscere il territorio e nel territorio c'è la realtà dei giovani e quindi a Sciacca allora c'era la marineria, ci sono i marinai, conoscere il territorio per abitarlo. Quindi se noi non abitiamo, se la chiesa non abita dove è l'uomo, se la chiesa, il parco non abita dove sono i ragazzi, dove sono i giovani, quindi non mi meraviglia se un sacerdote vive il suo tempo pastorale anche nei locali che frequentano i giovani. Non è più tempo di suonare le campagne e aspettare che i ragazzi e i giovani vengano dove c'è il Tempio. Il Tempio è necessario ma non dimentichiamoci che dice San Paolo il Tempio di Dio è l'uomo vivente e quindi allora i sacerdoti, i parri, gli operatori pastorali dobbiamo uscire dalla sacristia per andare ad abitare dove abita l'uomo di oggi, i ragazzi e i giovani di oggi. Ma oltre che conoscere, abitare il territorio è importante anche trasformarlo, trasformarlo e quindi amarlo, amarlo perché se tu ami i ragazzi, se tu ami i giovani, la simpatia che si crea, l'empatia che si crea con i giovani già diventa uno spazio, una situazione dove tu puoi seminare il Vangelo. Lei ha avuto un osservatorio anche speciale e particolare, oltre a quello del ruolo di il sacerdote le dava, ossia l'insegnamento. Come nota anche, si parlano di ragazzi, dicevo poco fa, crisi di valori, violenza, bullismo, tematiche che purtroppo la cronaca ci riporta giornalmente. Che cosa è cambiato in questi ragazzi? Io, dite la verità, ho fatto la mia esperienza di insegnante, quasi trentasi anni di insegnante nella scuola media, non solo a Sciacca, ma anche a Buccio, Lucca, a Villafranca, a Caltabellotta. Ho avuto anche l'esperienza di fare qualche insegnamento anche nella scuola superiore, a ricerca scientifico. Le due realtà sono certamente diverse, però ho notato nel percorso del mio cammino di insegnante, di religione, che le ultime tappe dell'insegnamento sono state più pesante. Iniziavo a insegnare nel 1974, mi trovavo bene, molto bene. C'era una simpatia, con gli alunni, però man mano che andavo facendo esperienza di docente, capivo qualche difficoltà. E gli ultimi anni come docente ho avuto tante difficoltà, perché la società è cambiata, i ragazzi sono cambiati, l'ambiente scolastico è cambiato, la situazione dei ragazzi come provenienti da diverse famiglie è diversa dagli anni 70, dagli anni 80. Oggi ci troviamo realmente in un contesto sociale che ha il cellulare, che ha internet, quindi i ragazzi di oggi non possiamo guardarli con gli occhi, con la metodologia degli anni 70-80, quindi dobbiamo cercare di avere dei modi nuovi, farci accettare dai ragazzi e dai giovani di oggi, capire cosa vogliono da noi, perché tante volte noi non sappiamo ascoltare i ragazzi. Vogliamo fare un'educazione cercando di proporre sempre loro, invece bisogna, come dice San Giovanni Bosco, la vera educazione è quella di tirare fuori. E quindi dobbiamo stare con loro, vedere i loro bisogni, tenere conto delle loro necessità e noi cercare di intervenire perché devono essere loro a crescere. E questo anche non solo come insegnamento scolastico, ma anche come insegnamento di catechesi, di formazione cristiana. Ai ragazzi non bisogna parlare di verità dottrinale, ma bisogna aiutarli a fare esperienza di Cristo. Ecco perché oggi nella nostra comunità cristiana il cammino di catechesi è chiamato catechesi catecumenato. Perché? Perché non si tratta di parlare di Gesù, ma si tratta di aiutare i ragazzi di oggi a fare un incontro vivo con Gesù. Questo è il ruolo della Chiesa. Come è cambiato anche il ruolo della famiglia a suo avviso nel rapporto famiglie e giovani? Famiglie sempre più alle prese con problematiche, con il mondo del lavoro e poco attenti forse alle esigenze vere dei ragazzi, giovani che vengono coperti da tanti beni materiali. Un po' questa, no? L'analisi che purtroppo si fa è forse poco di affetto, di attenzione. Io sono convinto che è cambiata la società, ma è anche cambiata la famiglia. Oggi non abbiamo più la famiglia degli anni 50 e 60. Ecco perché quando si parla di crisi di fede è perché è cambiata la famiglia. C'è quindi una crisi di famiglia e conseguentemente è una crisi di fede. Che poi è una crisi di società. E' una crisi di società. Allora prima il rapporto genitori figli era il rapporto di ubbidienza, c'era magari fosse poco dialogo. Oggi è necessario che i genitori devono cercare di relazionarsi con i figli in maniera tutta propositiva. Ora se mancano gli esempi della famiglia, papà e mamma, se non vivono una relazione di amore costruttiva, se papà e mamma vivono dei conflitti, delle difficoltà, tutto questo si ripercuote sui loro figli. E quindi c'è anche una difficoltà economica. Ecco perché la mamma che lavora è in una città, forse anche in un'altra regione. E questi ragazzi vivono soli? Come crescono? Con l'aiuto dell'internet. E quindi non c'è il dialogo. Anche mamma e papà quando dialogano? Dove dialogano? Quando si incontrano? Forse il papà mangia in un paese, la mamma in un bar. E quindi anche questa situazione sociologica familiare ha delle difficoltà che si ripercuotono nella formazione di crescita dei propri figli. Tra l'altro anche ci sono delle conflittualità. Io vedo per dire certi ragazzi che non ci hanno più aprisse nei loro bisogni ai genitori, ma parlano con altri ragazzi, forse più grandi. È stato sempre così il fenomeno, ma ora è più emergente. Lei diceva poco fa che il ruolo della Chiesa è cambiato perché è cambiata la società. È una Chiesa molto più aperta, molto più alla ricerca di quelle che sono i bisogni della società. Eppure è una Chiesa che è stata messa in discussione proprio per questa chiusura e questo cammino lo sta facendo a fatica. Nonostante le indicazioni di Papa Francesco poi ci sono anche certe resistenze nelle varie realtà. Si rivedono sempre l'anima tradizionista e l'anima apocristista. Possiamo dire come anche nella politica, no? Nella politica più o meno. Ci sono le diverse fazioni. Tante fazioni, tante gruppi, tante anime, ecco le chiamo così perché nella Chiesa c'è sempre quella corrente tradizionalista che vorrebbe ritornare magari a prima del concilio Vaticano II, ma c'è un'anima che grazie allo Spirito Santo che guida la Chiesa che cerca veramente anche con gli insegnamenti che ci dà Papa Francesco e direi anche il nostro Vescavo Don Franco che contegnandoci proprio sabato il piano pastorale ci ha detto proprio che lui sogna, che vede una Chiesa in uscita e quindi questa nuova evangelizzazione determina il ruolo che ha la Chiesa di oggi, non solo noi sacerdoti ma anche voi laici perché la Chiesa, quando parliamo di Chiesa cari amici dobbiamo pensare che la Chiesa è la famiglia dei battezzati, la Chiesa è la comunità di famiglie messenze, perché c'è il pericolo che quando parliamo di Chiesa abbiamo sempre riferimento al Vaticano oppure i preti oppure la gente di Chiesa, dimentichiamo che col battezzimo tutti abbiamo ricevuto il sacerdozio di Cristo, la regalità di Cristo, ieri abbiamo festeggiato Cristo nostro Re, ma questo nostro Re è un Re che si muole, che dà la vita, è un Re che si consuma per il popolo, allora la Chiesa di oggi deve consumarsi, deve donarsi, allora mancando gli esempi, sei il sacerdote in un tuo esempio, se tua mamma cristiana non dà esempio ai tuoi figli, il ruolo di essere cristiano dove sta? E quindi la capacità che dobbiamo avere come Chiesa di parlare un linguaggio veramente cristiano, oggi la terminologia cristiana secondo me è un po' come dire mortificata, perché dimentichiamo la nostra natura di appartenere a Cristo, noi siamo cristiani perché dobbiamo avere il pensiero di Cristo, dobbiamo avere il cuore di Cristo, non siamo cristiani perché siamo uomini, nel battesimo, il rito del battesimo ci ha messo la veste bianca, cioè siamo stati resi degni di una nuova realtà sacerdotale, quella di Cristo, quindi dobbiamo rendere presente Cristo nel mondo di oggi, tu sei cristiano politico, nella politica cosa fai? Da cristiano, io prete, come ministro di Dio, come annunciatore della parola, vivo questa parola, la testimonianza con la mia vita e così anche tutti gli altri, le varie famiglie, le varie operatori pastorali e tante volte credo che la crisi sta nella mancanza della testimonianza cristiana. Attimo 1,8 Gesù dice mi sarete testimoni. Da questo punto di vista lei citava anche il nostro cardinale, il nostro vescovo e sono ormai puntuali i suoi richiami alla politica e il suo intervenire sui temi dell'immigrazione soprattutto, persino sui temi dell'acqua, cioè i preti che possiamo banalizzare così si occupano di temi che erano stati invece prevalentemente della politica. E questo non è un'ulteriore dimostrazione della crisi a sua volta anche della politica. Certamente, noi come Chiesa oggi abbiamo assunto un compito che non sarebbe prettamente nostro ma sarebbe del laico cristiano, però oggi vediamo che i laici cristiani non assumono, e tante volte, grazie a Dio abbiamo tanti buoni politici, bravi politici, bravi cristiani, però certi ruoli che prima aveva la politica, adesso la Chiesa ha bisogno di riprendere un po' il discorso, di richiamare i suoi cristiani al valore della testimonianza e quindi l'acqua e quindi l'accoglienza degli immigrati e quindi l'immigrazione. Anche noi dobbiamo tener conto che sì, è vero, accogliamo gli immigrati, ma nessuno parla dei nostri giovani che se ne vanno lontano. È vero che il nostro vescovo, se questo ha intituto molto, noi dobbiamo accogliere, è giusto accogliere, però perché anche come cristiani, come Chiesa italiana, come cristiani del nostro territorio non ci parliamo di un problema, ma perché i nostri giovani per lavorare devono andare a Milano, a Torino e non stare, abitare la propria terra, il proprio territorio e quindi un'imprenditoria che valorizzi le risorse che abbiamo. Qui noi abbiamo un porto, abbiamo la marina, perché non valorizzare, non attenzionare, per dare più occupazione. Abbiamo tanti commercianti, ma se hanno difficoltà i nostri commercianti di lavorare, i commercianti chiuderanno i loro negozi e per fare la spesa invece di stare a Sciacca andranno a fare la spesa a Castelvetrano o in altre parti, alla nostra città si va sempre più. Lei è ritornato dopo diversi anni di esperienze nei comuni del circondario, che cosa ha notato su Sciacca? Come è cambiato a Sciacca? C'è chi dice, il luogo comune, Sciacca anziché andare avanti, in questi anni ha perso molto. Lei tra l'altro, poi glielo chiederò, in diverse occasioni ha intervenuto su una delle problematiche più attuali, cioè quella delle terme chiuse. Ma lei come ha trovato Sciacca dopo diversi anni in cui magari si la frequentava ma non era più quella frequenza assidua quotidiana. Come parlo, certo. Io ho notato qualche differenza, certamente l'ho notato, perché anche ricordando i miei primi anni di sacerdote alla matrice di Sciacca, notavo una Sciacca più ricca di risorse, anche perché c'era la vitalità delle terme. Tu hai accennato a questo problema che affronto, sì, perché è un problema che mi ricorda anche un episodio da ragazzo. Io ero in seminario ad Accricento, 15 anni avevo, e un medico di Palermo allora, per una cura, la mia difficoltà dell'orecchio, mi ha mandato a Tabbiano, a Sassomaggiore, capisci? Appena sono arrivato a Tabbiano, il medico mi disse, ma lei viene da Caltabellotti, a provincia di Accricento, ma a Sciacca avete il tesoro delle terme. Come mai l'hanno mandata qui? Io non ho potuto rispondere, perché se un medico di Palermo mi manda in Alte Italia ho dovuto obbedire. Ecco, ho notato Sciacca che senza le terme diventa una realtà poco abitata. Le terme danno vitalità, danno economia, danno sviluppo, danno lavoro, c'è una visione nuova della cittadina. Passo dalle terme oggi e vedo che il palazzo del terme è chiuso, viene da piangere. Cioè dire, ma a che punto, dove siamo arrivati? E non ti dico poi del vecchio ospedale, io abito in via Figoli e tante volte vedo il vecchio ospedale, alcuni anni fa c'erano le finestre serranti chiuse, ma ora sono aperte. Allora perché tutto questo degrado? Non è un andare a rimpiangere quello che prima c'era, che prima era vita, certi ambienti della nostra città. Il centro storico principalmente era una grande vita, c'era un grande progresso, un grande movimento. Ora mi pare che anche il centro storico che può capitare. Che riscontro ha quando affronta queste tematiche? Lei lo fa anche durante la messa? Io veramente ho promesso di dire ogni domenica nella preghiera dei fedeli un'intenzione per l'apertura delle terme. Certamente questo perché voglio essere obbediente a Gesù che dice bussatevi sarà aperto, chiedetelo, otterrete. Quindi voglio spingere la comunità cristiana a credere al miracolo della preghiera. E quindi questa preghiera che noi facciamo per la riapertura delle terme, per valorizzare le risorse che la città ha, può servire non solo a noi che stiamo pregando, ma rivolgendoci al Signore può illuminare le menti dei governanti, il regionale principalmente, perché sono convinto che non è solo un problema dei nostri amministratori a comune, ma c'è una realtà politica regionale che deve attenzionare a questi bisogni, perché poi succederà alle prossime votazioni regionali che noi ci ritroveremo punto a capo con le stesse istanze, con le stesse problematiche e con le stesse sofferenze. Quindi è una Chiesa che deve anche sollecitare questa politica, questa politica che spesso è litigiosa, lei segue le vicende locali, anche regionali, diciamo che si litiga ovunque. Ma certamente dal Concilio Vaticano II con la Gaudium e Tispessi il ruolo della Chiesa è nel mondo, la Chiesa non è fuori dal mondo, la Chiesa è nel mondo contemporaneo, quindi noi come Chiesa dobbiamo calarci nella vita della gente, nei bisogni della gente, saranno i bambini, saranno gli anziani, saranno i giovani, tutta quella realtà sociale che noi stiamo vivendo e quindi ci sono delle problematiche anche di criminalità organizzata, le varie culture mafiose, tutto questo naturalmente deve interessare alla Chiesa. La Chiesa non è la Chiesa del silenzio, grazie a Dio possiamo parlare, annunziare, dare dei valori che sono molto importanti. Arrivare persino a fare qualche richiamo, no? Ma quanto capita se è necessario, perché no? Perché dobbiamo sensibilizzare le coscienze, dobbiamo illuminare le coscienze, perché se i nostri politici sono cristiani, se abbiamo tanti battezzati, impegnati nel sociale, nella vita politica, nella vita generica delle varie strutture, istituzioni, il dovere del sacerdote è quello di aiutare, di illuminare, di sostenere, di incoraggiare, non siamo per rimproverare, perché prima rimproverami devo essere io, ma siamo per sollecitare e anche stimolare gli altri a poter aiutare la gente, il popolo a camminare verso i traguardi che sono importanti, la serenità della vita che è molto importante, avere un pezzo di pane per mangiare, avere qualcosa da dare ai figli, perché questo è il ruolo della Chiesa oggi, non solo spezzare la parola. Anche perché voi lo toccate quotidianamente, cioè chi ha bisogno, chi è in difficoltà, non parlo solo di bisogno economico, ma anche di altro, spesso ci si rivolge al parroco, si staura un rapporto che va oltre il mero aspetto religioso, è ancora vista come figura di conforto, lei viva anche questa realtà? Da due mesi che sono qua a Sciaccati devo dire che ogni giorno almeno una persona ti viene a chiedere un euro, qualche cosa, devi vivere per poter mangiare, per poter comprare qualche cosa ai figli e quindi questa emergenza per le famiglie che vivono state veramente di povertà è importante, però noi non ci possiamo sostituire allo Stato, però attraverso la Caritas, grazie a Dio a Sciacca, grazie a Don Bascolino Barone, abbiamo la Menta Cittadina che dà tante possibilità a tanta gente di trovare qualcosa da mangiare, ma però nelle nostre parrocchie vengono tante volte al giorno delle persone che chiedono aiuto, cerchiamo di dare anche grazie alle strutture caritative come la San Vincenzo degli aiuti per poter aiutare minimo indispensabile a questi nostri fratelli. Che cosa le dicono al di là della richiesta economica? Che cosa emerge da quello che è questo rapporto di fiducia che instaurano con il parco? A me è quello che fa sopprire che vedo questi fratelli che vivono delle povertà e sono convinto che la povertà più grave non è solo, parliamo di vivere, non solo quella del cibo, ma anche delle povertà di poca crescita umana, di poca crescita culturale, di poca crescita affettiva. Vedete oggi c'è anche un problema molto grave della donna che gioca, tante, tante situazioni uomini che giocano e quindi questa è una povertà perché tante situazioni familiari si condizionano e deteriorano per queste mancanze di serenità interiore e quindi mi commuove vedere una persona che per andare a giocarsi 5 euro e viene a bussare alla chiesa. Tante volte magari c'è questa mancanza di sincerità, quelli 5 euro non ti servono per comprare qualcosa ai figli ma ti servono o per andare a comprati le sigarette oppure per andartela a giocare. Questo sta diventando purtroppo un fenomeno, ma è una malattia e come tale andrebbe considerato, il problema è che non viene fuori in questo modo, si lega ancora al vizio, posso gestirlo, però lei quindi ha toccato anche questo aspetto che poi rovina tante famiglie. Tante famiglie perdono la serenità, vivono in questo disagio, noi come pastorale cerchiamo di aprire le porte, abbiamo la San Vincenzo che ha dei momenti in cui, delle giornate in cui c'è questo centro di ascolta per vedere di aiutare con l'aiuto di qualche psicologo, con qualche situazione, quel bene che possiamo fare. Certamente c'è tanto lavoro da fare, ecco perché se noi seguiamo le linee che ci dà il nostro pastore, la cardinale Don Franco, quella di abitare il territorio, possiamo anche conoscere tante cose che magari sono nascoste e entrando vivamente nella vita delle nostre famiglie possiamo coprire le mancanze che vivono con il nostro impegno e con le nostre poche risorse che abbiamo. Parliamo proprio di questo, delle difficoltà che si trova a fronteggiare la Chiesa, pochi sacerdoti, tante Chiese da gestire anche in termini proprio di tenerle aperte, riuscire a gestire anche la Messa Domenicale. Come si fa? Hai toccato il momento critico del mio essere qui parroco alla Chiesa Madre di Sciacca perché per ora sono senza viceparroco, sono solo, però grazie a Dio mi aiutano i confratelli i padri Capuccini e anche il padrinino Catanzaro della parroccia San Pietro, per ora la realtà è questa, io faccio un confronto. Quando sono venuto a Sciacca nel 74 eravamo un numero veramente grande di sacerdoti, a San Calogero c'erano diversi sacerdoti, al Cigno dei sacerdoti, nel centro della città, in ogni parroccia c'era un parroco e un viceparroco, posso dire che solo la parroccia San Pietro, posso allora c'era un solo parroco, ma c'eravamo tanti sacerdoti sufficientemente adeguati per servire bene la città. E oggi non avendo questa presenza, diciamo, di sacerdoti come allora, siamo costretti ad accorpare le parrocce. Difatti io ho unità pastorale, San Francesco di Paola, Chiesa Madre. In altri paesi ci sono stati diversi accorpamenti, ormai un parroco almeno ha due o tre chiese, due o tre parrocce, e tutto questo è un disagio per la gente, ma nello stesso tempo può diventare una voce dello spirito, perché la Chiesa deve anche sensibilizzare i suoi cristiani. E quindi speriamo, se veramente leggiamo i segni dei tempi, di riscoprire la realtà di una Chiesa ministeriale. C'è questa crisi della vocazione che è legata indubbiamente anche a una impostazione del ruolo del sacerdote che probabilmente non risponde più ai tempi attuali. C'è questa apertura anche da parte di Papa Francesco, però anche lì torniamo alle resistenze, no? L'apertura di Papa Francesco è un'apertura che mantiene, diciamo, la tradizione stessa della Chiesa, perché i presbiteri, la parola presbitero significa anziano. Ecco, già nella Bibbia si parla di uomini scelti per volgere determinati servizi all'interno della Chiesa. L'apertura è importante, che Papa Francesco l'ha indicato, in cui l'ultimo sinodo che ha celebrato l'Amazonia, e quindi mi sembra molto importante che la Chiesa guardi le necessità di oggi, e quindi se c'è bisogno, ecco, c'è bisogno dell'accolito, c'è bisogno del lettore, il diaconato permanente, e quindi anche da uomini sposati, un domani potranno anche venire uomini che possano esercitare il compito di parroco. Ma questo non significa che viene abolito il celibato, assolutamente, il celibato è stata una ricchezza nella storia della Chiesa e lo sarà sempre. Però la Chiesa si deve adeguare ai tempi che sta vivendo, valorizzando le situazioni storiche, naturalmente, che sta vivendo e valorizzando, come dicevo un momento fa, il ruolo della ministerialità. La Chiesa affida uomini e donne dei servizi per i beni stessi della comunità. Del resto tanti cambiamenti sono avvenuti, lei avrebbe mai immaginato due papi, nessuno di noi, e noi ci abbiamo visto, in questa epoca abbiamo visto anche questo, no? Noi siamo fortunati ancora di essere uomini e donne cristiani in Chiesa che stiamo vivendo la presenza, la copresenza, diciamo, meravigliosa di Papa Benedetto XVI e di Papa Francesco. Papa Benedetto sta vivendo questo periodo della sua vita nella preghiera, nel nascondimento e sta vivendo la sua vita di Papa pregando per questa Chiesa. E grazie a Dio vediamo tante volte la televisione, questi abbracci da Papa Francesco e Papa Benedetto che diventa per noi un segno veramente di positività. Quando pensiamo invece agli antipapi del passato, questa visione di Chiesa che prega è visione di Chiesa che è in missione. Ecco, Papa Francesco, Papa Emerito che sta pregando per noi, Papa Francesco che è in campo di battaglia, in missione e sta vivendo veramente la sua esperienza. Senta, ma questa crisi della vocazione a che cosa è legata a suo avviso? Io innanzitutto... Nel seminario ormai lo vediamo, i seminari sono svuotati. Il nostro seminario, grazie a Dio, regge bene. Il nostro seminario regge bene. Abbiamo avuto l'ultima denazione, 5-9 sacerdoti. Io frequento il seminario perché nella mia vita ho anche insegnato in seminario, ho seguito la scuola dei ministeri, ho questo contatto diciamo quotidiano con il seminario e ci sono tanti bravi giovani, anche vocazioni adulte, però devo dire che il nostro seminario tiene bene, però il problema secondo me sta alla base. C'è la nostra comunità, le nostre comunità pregano per le vocazioni. C'è una crisi di famiglia. Io sono figlio di genitori che hanno avuto 5 figli. Nella famiglia siamo 5, ma oggi le famiglie sono 1, 2, 2 figli. La crisi della vocazione quindi è innanzitutto... E frutto, lei dice, anche della crisi delle nascite. Dalle nascite anche. E nascite è anche la crisi educativa, perché la vocazione nasce anche nella comunità. Il prete non nasce nella famiglia. Io non sono frutto della mia famiglia semplicemente, ma ogni prete è anche frutto della comunità. Se abbiamo comunità poco impegnate, comunità dove il ruolo ministeriale non si vive, dove non c'è amore anche al sacerdote, dove non si prega per il sacerdote, dove non si vede il sacerdote nel ruolo della sua vera missione, che è una grande missione, il sacerdote, a servizio del mondo, a servizio della società. Se il sacerdote non è visto come pastore, come guida, come amico, come fratello, e lì sta il problema della crisi delle vocazioni anche. Che è un popolo che si allontana da Dio, un popolo che si allontana dalla fede, è un popolo che non capisce più la chiamata. E però quanto non ha influito anche, padre Marcianto, lo dobbiamo dire, gli scandali della Chiesa, ma soprattutto quell'errore fatto di voler tacere, mettere a tacere. Senza dubbio. Forse questo è stato l'errore più grande della Chiesa. Questo ha influito, certamente l'errore grave è quello di coprire. Il male non si copre, il male lo si sdradica. Anche se bisogna aspettare i tempi giusti, come dice Gesù nella parabola della zizzania. Tempo perché poi viene bruciata la zizzania e il buon grano viene. Però non dobbiamo fare di ogni erbo un vascio. Certo. Ecco, però, come dici tu, giustamente anche noi abbiamo piante, dobbiamo chiedere perdono al Signore e perdono alla nostra gente di certe situazioni ingresciose e dolorose che hanno accertamento, non hanno più entusiasmato i nuovi giovani. Perché questa rabbia dei giovani, diciamo, è condivisibile. Però dobbiamo anche capire che il sacerdote, nonostante il suo ruolo che ha, è sempre un uomo peccatore. Lei riceva, io, la difficoltà a gestire due Chiese, una Chiesa Madre, tra l'altro altri sacerdoti di Sciacca hanno, le citavo Padre Pasqualino, Padre Pasqualino da Santa Caterina alla Chiesa di San Michele, Chiesa di Loreto, Chiesa e tante altre, no? Eppure sarebbe anche bello riscoprire queste Chiese, che purtroppo rimangono chiuse anche per questo motivo. Io mi sto facendo anche promotore all'interno della mia comunità, comunità pastorale San Francesco di Paolo e Chiesa Madre, di avere la possibilità di tenere le Chiese aperte, perché credo che le nostre Chiese aperte già diventano luogo di una Chiesa. Intanto sono beni storici e monumentali della città. Non solo dal punto di vista, diciamo, artistico, ma ogni Chiesa aperta dà un messaggio di fede. Se abbiamo delle organizzazioni, di associazioni, che possano anche guidare i turisti che arrivano, già diventa quella missione di evangelizzazione. Io farò di tutto perché ci possiamo impegnare, anche con i miei confratelli, lavorando insieme ad avere la possibilità di tenere tutte le Chiese aperte, perché a Sciacca arrivano tanti turisti, viene tanta gente, e perché non vado a vedere i nostri tesori di arte, ma anche di fede? In Chiesa Madre abbiamo un museo di Ocesano, e ci stiamo lavorando perché attraverso la curia, attraverso le varie associazioni, il museo possa diventare non solo una realtà artistica, storica da ammirare, ma anche un luogo per riscoprire la fede del popolo di Sciacca, perché attraverso la contemplazione, attraverso la visione delle statue, delle corone della Madonna, dei calici, dell'epissile, degli ostensori, c'è un messaggio religioso e di evangelizzazione che noi trasmettiamo alle nostre tradizioni, la nostra storia religiosa, a chi viene a trovarci. Tra l'altro, turismo è anche un turismo religioso che noi non abbiamo sfruttato fino in fondo. Lei diceva, io sto cercando di fare il possibile per tenere aperte le chiese, e riferimento anche a chiese chiuse da anni, chiaramente. Però, Padre Marciante, noi abbiamo avuto anche la Chiesa Madre chiusa in determinate giornate, festive, di richiamo per i turisti in passato, così come anche altre chiese. Come si può fare in modo che ci sia anche, si sfrutti appieno anche questo turismo che non è solo religioso, perché parliamo, lei diceva, di opere d'arte, di beni monumentali comunque. Andrebbe anche concordato forse con l'amministrazione, con le associazioni. Andrebbe concordato a fare veramente un lavoro. Dote da solo non può stare lì a tenere la chiesa aperta giorno e notte. Tenere la chiesa aperta è anche un rischio, perché oggi possono succedere delle cose che uno non si aspetta. Però se c'è una collaborazione dell'amministrazione comunale, le nostre chiese, le varie associazioni, sto cercando anche di mettermi in contatto con le varie associazioni per aiutarci a lavorare in Tenergia, perché certe chiese, per dire, penso a Santo Antonio, penso a Purgatore. Ma anche la chiesa di San Francesco di Paola io non ci entro da, veramente, oltre 20-30 anni. Io ancora non ho avuto il tempo di andarci dopo dei mesi che sono qui. Non sappiamo neanche in che condizioni. Non lo so, neanche io su questa chiesa non ti posso parlare perché ancora non ho avuto il tempo materiale di andare a vederla. Sono andato a vedere Santo Antonio l'altro giorno ed è un peccato che sia giusto. Anche la chiesa del Purgatore è un peccato che sia giusto. Vedrò, mi muoverò anche con i collaboratori, con le varie associazioni, di fare in modo che le nostre chiese siano aperte, fruibili ai turisti perché già il turismo a Sciacca dal punto di vista religioso è una pedina fondamentale come volano quasi dell'economia della nostra città perché è un turista che arriva e trova in orari giustamente cristiani, diciamo così, la chiesa chiusa, questo non è bello. Però non possiamo tenere la chiesa chiusa aperta 24 ore su 24 ore. Abbiamo avere degli orari rispettabili perché ci vuole sempre qualcuno che custodisce la chiesa. Parliamo della Basilica, Maria Santissima del Soccorso che è la chiesa per eccellenza, giustamente la chiesa madre e noi abbiamo, noi saccensi, abbiamo questo culto forte della Madonna. Lei ne è consapevole, si appesta tra qualche mese a vivere, darci prete, la prima processione, quella di febbraio. Non ti confesso che sono un po' in ansia a aspettare questo ottavario della Madonna del Soccorso. Ho già cercato di parlare con qualcuno interessato, con alcuni giovani dei marinai, con Vito Maggio e altri. Mi incontrerò quando ho prima con il precedente della cooperativa dei pescatori per cominciare a prepararci, non essere, diciamo, impreparati all'evento perché ultimamente so che sono successi dei momenti critici per la processione. Certamente le autorità competenti, le varie istituzioni e i commissari hanno ragione di aspettarsi una sicurezza. No, tra l'altro ormai siamo alle presi anche con gli eventi religiosi con una serie di norme e di regole che sono diventate più stringenti anche a seguito dei fatti ormai celebri di Torino, eccetera. Quindi non è più facile come era un tempo organizzare la processione della Madonna. Mantenere anche questa tradizione della Madonna che viene portata a spalle dei pescatori. Cioè va gestita meglio? Va gestita meglio, va preparata. E come può essere gestita? Mantenendo poi sempre questa tradizione. Bisogna mantenere la tradizione. Guai a noi se non siamo attenti a questa bella tradizione della Madonna del soccorso ma non possiamo essere superficiale e lasciare tutto a caso. Non dobbiamo aspettare il morto per dire ah se sappiamo se avessimo saputo. Dobbiamo fare in modo che tutti principalmente i portatori della vara della Madonna siano fra di loro ben organizzati siano fra di loro compatti perché portare la vara della Madonna è una grande responsabilità. Non si porta la vara della Madonna perché l'ho portata sempre ma capire perché si porta la vara della Madonna è un sacrificio è un atto di fede è un atto di amore è un atto di devozione non è un atto di fanatismo e quindi prima di tutto i pescatori devono essere responsabili e corresponsabili dell'evento della processione e quindi non essere impreparati. C'è anche chi ha parlato aboliamo questa tradizione non è possibile rischiare così tanto facciamo in modo che venga organizzata in maniera diversa insomma ci si comincia a porre il problema in effetti però non è facile trovare la soluzione. Il problema ce lo dobbiamo porre trovare la soluzione dipende da noi mettendo in su piatto della nostra discussione i vari interventi che dobbiamo fare coinvolgendo tutte le forze dell'ordine la cooperativa i portatori noi come chiesa ma cercando di creare le condizioni perché tutto disvolga bene non è possibile oggi come oggi che la gente si mette tutta attorno alla vara perché lo sviluppo dei movimenti è imprevedibile e quindi è necessario che anche noi devoti della Madonna cerchiamo di metterci in quello spazio dove almeno permettiamo un minore pericolo che possano succedere un'eventuale disgrazia che magari qualcuno scivola qualcosa può succedere ma c'è la distanza adeguata tra la vara e quindi i portatori e la gente qualcosa si può adeguatamente aggiustare e quindi ci vuole un lavoro mentale per tutti una corresponsabilità di tutti liberandoci da quella parola brutta si è fatto sempre così noi non possiamo dire non possiamo aspettare un fatto grave per cambiare ma rendiamoci conto per quei fatti che tu hai accennato può succedere da un momento all'altro qualcosa di imprevedibile mettiamo le precauzioni essenziali intanto preparando bene la processione con le dovute distanze tra i devoti i portatori lavare la stessa e dove ci sono le fermate e curare bene questi momenti che cosa rappresenta la Madonna del Soccorso per i saccensi ce lo dica lei che ci ha visto sempre da osservatore esterno seppure molto partecipe la Madonna rappresenta il cuore di Sciacca il tesoro di Sciacca io vedo aprendo la chiesa ogni mattina già vedo già alle 8 meno un quarto settemmetre c'è gente che prima di andare a lavorare passa dalla chiesa amata si ferma a fare i suoi preghiere si affida alla Madonna la Madonna per i saccensi è la mamma ecco in questa storia di Sciacca il ruolo principale ce l'ha proprio la Madonna dall'evento straordinario del 1626 dalla liberazione della peste anche oggi la Madonna è per ognuno di noi la mamma che ci guida la mamma che ci protegge e abbiamo bisogno veramente oggi come allora perché anche oggi ci sono altre calamità altre carestie altre pestilenze perché non solo c'è il terremoto degli anni passati ma c'è anche un terremoto sociologico di oggi non c'è solo la peste del 1626 ma ci sono le nuove forme di peste allora c'è bisogno di attaccarci alla mamma c'è bisogno di aggrapparci a lei c'è bisogno di affidarci nel nostro cammino spirituale umano familiare sociale politico alla mamma che ci soccorre quella mazza che lei tiene per proteggerci dal male ancora oggi è feconta di grazie e quindi noi andiamo alla Madonna non solo per chiedere di grazie perché non si va alla Madonna quanto abbiamo bisogno ma dobbiamo averla come modello della nostra vita e la mamma il concilio Vaticano II ha chiamato Maria madre della chiesa e quindi non possiamo vivere da chiesa senza guardare alla mamma con lei dobbiamo camminare verso di lei è come lei ha amato Gesù quando la Madonna esce per le vie della città non viene sola lei porta il bambino e quindi anche noi dobbiamo essere come Maria dobbiamo cercare di portare Gesù il mondo il mondo di oggi ha bisogno di Gesù ecco perché dobbiamo averla come modello di chiesa come modello della nostra vita spirituale e credo che per noi saccensi quando esce la Madonna il 2 febbraio ma anche il primo febbraio con il voto che facciamo è un rinnovare il nostro impegno di consagrazione a lei di tenerla sempre come come la mamma che ci sostiene che ci sorregge che ci ama che non ci non ci non ci abbandona nelle nostre difficoltà di salute ma principalmente nel nostro peccato perché vedete che la cosa più preoccupante è se noi restiamo nel peccato e pensiamo di essere devoti della Madonna chiediamo alla Madonna proprio che ci salvi dal potere del male che ci guarisca dalla schiavitù del peccato che ci liberi noi siamo imprigionati oggi siamo schiavi del peccato e la prima liberazione che dobbiamo chiedere alla Madonna è proprio non solo la peste sociologica ma anche è la peste del peccato nel peccato non si vive nel peccato siamo morti allora stiamo iniziando il nuovo anno liturgico stiamo riprendendo il nuovo cammino riprendiamolo con la mamma accanto a lei e come lei cerchiamo di andare verso Gesù e portare Gesù nel mondo di oggi siamo in conclusione che cosa spera per la città di Shaq lei che impegno che entusiasmo che tipo di iniziativa intende portare avanti e lei all'inizio di questa nuova esperienza io sono diciamo devo portare cose nuove io voglio che il vecchio diventa sempre nuovo ecco certo Shaq ha una grande storia religiosa ha una grande storia religiosa e insieme ai miei confratelli cerchiamo di creare una pastorale adeguata ai tempi di oggi io credo che la cosa più nuova che devo portare io è cercare di far vedere nella mia vita agli altri che mi guardano che mi sentono che mi seguono di far vedere sentire il profumo di Cristo e quindi la cosa più nuova che dobbiamo far sentire è sempre la cosa vecchia il Vangelo di Gesù la parola di Dio che è luce per il nostro cammino e quando noi con la guida della Madonna che è la stella del nostro cammino riusciamo a portare il Vangelo nel cuore della gente già abbiamo portato veramente il nuovo che è sempre quello che era nel passato però forse questo questo Vangelo sia ormai riembito di polvere se pensiamo che tutto è scondato invece non è così dobbiamo quindi rievangelizzarci ritrovare l'amore alla parola di Dio e quindi cercare di nutrirci della parola la parola che Maria ha accolto Maria è grande perché ha accolto la parola del Signore l'unica parola bella che Madonna ci ha dato è eccomi sono la serva del Signore eccomi noi dobbiamo dire oggi proprio questo eccomi con la nostra fede e quindi alla città di Sciacca come città ma principalmente come chiesa io augurerei impariamo da Maria a dire il nostro eccomi pronti a fare quello che il Signore ci ha detto tra l'altro la Madonna alle nozze di cane dice proprio questa parola ai discepoli fate quello che vi dice allora cari fratelli è l'augurio che faccio a tutti voi all'inizio di questo nuovo anno liturgico impariamo a fare le cose che Gesù ci ha insegnato non sono cose vecchie perché il Vangelo non è mai vecchio non diventa mai vecchio perché la parola di Dio è sempre nuova grazie grazie Padre Marciante per aver partecipato alla trasmissione grazie a voi per averci seguito e a Darte a Redi che come sempre ci ospita appuntamento alla prossima settimana